Ma non si drogava Magic Mike, no perché, lo dico a te, preferisco parlare con te, no perché qualcuno in questi mesi aveva insinuato che Magic Mike si drogava ed è per questo che era sparito dai radar per dei mesi E quanto è bello vedere Magic Mike che risponde sul campo a tutte queste malvagità, a tutto questo parlare, io sono contento oggi di togliermi qualche sassolino su questa storia Ed ha ragione Magic Mike che ha risposto sul campo, ha risposto col lavoro, ha risposto facendo prestazioni come quelle della Francia e parate come in quella partita Quindi sono contento che sul campo abbia risposto a certi tifosi che stavano raccontando una marea di cagate E raga, davvero sono perfino commosso finalmente in questa settimana, una bella notizia Perché ieri è giunta la notizia che 90 su 100 Giroudopo, lo sapete raga come la penso, io finché non vedo la firma non canto vittoria Con questa società io non canto vittoria, però sembra che al 90% il contratto di Giroud sia fatto Sia sul tavolo, manca solamente la firma ma ci sia stato l'accordo tra Giroud e la dirigenza E questa è un'ottima notizia perché come vi dicevo nei precedenti video è vero che bisogna rifare il parco attaccanti E' vero che bisogna svecchiare, però non puoi neanche comprare 4-5 attaccanti in una stagione sola Quindi va fatto tutto con una certa tempistica Quest'anno ne inseriamo 1-2, l'anno prossimo svecchiamo ulteriormente Perché comprare punte costa Quindi ci sta, io dico sempre che stare con Giroud, stare con Lollo Colombo Via Origi che mi fa cagare, via Rebic che è una delusione perché io non dico che è scarso Rebic per me è un ottimo giocatore, purtroppo non lo sta dimostrando Perché a tratti anche col Milan ha dimostrato di essere un ottimo giocatore Però vuoi gli infortuni, vuoi che probabilmente oggi è demotivato perché si trova scavalcato dalle gerarchie, dalle au Vuoi per tanti fattori, troppi infortuni non ha dimostrato Quindi anche Ante, via E poi ci prendiamo, va, Origi Che cazzo me ne faccio io di Origi Un cazzo, fa cagare Noi Giroud, Colombo E poi ci andiamo a prendere un bell'Oilund Un bel Murphy Un bel David Vedremo quello che la nostra società farà E sarei già soddisfatto Dopo, siccome ieri è venuta anche la notizia Che Raffaele Au Voglia rinnovare col Milan Che le trattative sono avanzate Che ci sono delle ottime possibilità che rinnovi col Milan Anche lì prendiamo sempre tutto con le pinze Per non scottarci E soprattutto, da parte mia, per non raccontarvi cagate Però, questo è ciò che ha detto ieri il buon Di Marzio Quindi, se ci fosse Leao Rebic, Colombo Basterebbe prendere una grande punta che faccia il titolare E il vice Leao Per quando non c'è Leao Per il reparto offensivo Ovviamente, bisogna cambiare Quegli esterni destri che sono vomitevoli Però, davvero Di mercato ne parleremo Ci sarà molto tempo Oggi dobbiamo però concentrarci Soprattutto Sulla partita col Napoli La prima delle tre sfide col Napoli Che è di vitale importanza Perché, come ha detto Stefano Pioli Il Napoli è forte Ma non è imbattibile Ti do perfettamente ragione, Stefano E te l'ha dimostrato Sarri con la Lazio Che è andato a Napoli E ha vinto Quindi, Pioli Non ci sono giustificazioni A Napoli si va per vincere Dopo è ovvio Il Napoli ha dimostrato in questo campionato Di essere stratosferico E vorrà battere il Milan Perché sicuramente vorrà festeggiare Il prima possibile la vittoria del campionato Però, raga Si può fare Non è impossibile Non sono invincibili Sono una gran squadra Che sta vincendo il campionato con merito Ma noi dobbiamo crederci La squadra Io lo dico sempre È da primi quattro posizioni Se non ci arriviamo Andiamo davanti allo specchio Sputiamoci in faccia Per oggi Godiamoci queste buone notizie È bello sentirle Perché tante volte Ti scoraggi con questa proprietà Dici cazzo Non rinnoverà mai nessuno Dai Un tassello alla volta Vediamo poi Se firmerà Però Così sempre Forza mina raga Iscrivetevi al canale Pollice in su e benzinero Grazie a tutti